Come già comunicato sui nostri canali, in particolare sulla pagina Facebook dei triari, il 13 maggio 2020 è nata la nostra web tv. La data non è presa a caso, infatti sotto la protezione della Madonna di Fatima abbiamo voluto dare inizio a questa nuova battaglia a difesa e a promozione del vero, del bene e del bello. Viviamo in un periodo storico dove tutto ciò che ontologicamente corrisponde al vero è messo in discussione, dove il relativismo tenta di incidere sul dogma, dove il bene è slegato dal concetto del fine, lasciando spazio quindi ad ogni genere di filantropismo avulso dalla verità. Dove il bello, e quando si parla di bello non si intende solo quello puramente estetico, è dimenticato, a favore del modernismo più sfrenato in tutte le sue forme. Inoltre, l'unica entità di divina istituzione, la Chiesa Cattolica, in diversi suoi pastori, ma ovviamente non nel suo magisterio immutabile, ha abdicato dal proprio ruolo per confondersi nel mondo, lasciando molte anime in balia del vento di Paolina Memoria, sbattute appunto come canne al vento di qualsiasi dottrina. Avremo quindi modo nelle diverse iniziative di proporre contenuti a vantaggio del singolo e delle comunità, per recuperare con lo slancio verso il vero, il bene ed il bello, che può essersi sì raffreddato nel tempo, ma che doverosamente variscoperto e promosso per il bene di ogni uomo e di ogni donna, e per il loro fine ultimo. Ci saranno diversi invitati con i quali poter condividere quelle che noi vorremmo fosse un'occasione di crescita reciproca, di cui con alcuni condividiamo in pieno la nostra visione a riguardo dei valori assoluti, e con altri magari solo in parte, ma non per queste il loro contributo specifico sarà meno importante. La verità a volte si fa strada in ambiti attraverso persone di cui solo Dio ne conosce i disegni. Per rimanere sempre aggiornati sulle prossime iniziative vi invitiamo a seguire la nostra pagina Facebook ed il nostro canale YouTube, di cui metteremo il link di riferimento nel commento al video. Un caro saluto quindi e a presto. Grazie a tutti.